Yeah, yeah, yeah! Non è che alla domenica ma non mi caprate Ma se ti spettano a dirmi anche Ed in Pernando se dai un GdP Azzia roll, 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 roll Che che in la bassa Azzia roll, 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 roll Che che in la bassa Ciao Giulia! Siamo per generosi esseri, sperdanti il via a piedi e mi perdono se hai un giro in piedi. Ma se ha roll, 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 che c'è la bassa. Se ha roll, 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 che c'è la bassa. Come on! Oh yeah! Lei c'era che ne vienova io, ma è caro anche in una zona d'accordo. La rubola, il bosco e la preventa e il livello, ma dio, ma c'è la bassa. Sì, sperdanti il via a piedi e mi perdono se hai un giro in piedi. Ma se ha roll, 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 che c'è la bassa. Ma se ha roll, 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 che c'è la bassa. Come on! Oh yeah! Signori, stasera a Carpi per l'aperitivo, e ricordo a quelli che si sono fermati adesso, ci fermiamo un attimo e riprenderemo alle 10.20. 10 e un quarto. Stasera la chitarra ritmica ha suonato a Carpi la notte bianca, niente un po' di meno che... Niente un po' di meno che... Signori, un passo in avanti... Little, 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 Little G! Signori, al basso, cappello biondo, fascia leopardata, il leopardo è in lui. Ha suonato al basso questa sera per voi, niente un po' di meno che... Al Gnosis! Signori, alla batteria, è un po' che non lo dico, ma il mio fratellino non di sangue, il nostro manager... Il biondo, il bello, non bello, ma soprattutto il batterista con tutto maiuscolo... Signori, ha suonato per voi... Signori, ha suonato la chitarra per voi... niente un po' di meno che Max Priest ma soprattutto ha cantato per voi il poeta Reduce dal mare si Reduce dal mare l'ho fatto per voi lui era al mare è venuto a casa per voi si vogliono tutti questa sera e ha cantato per voi questa sera la voce della bassa signori voglio un grosso applauso a Steve Redvoix e non è per caso che ho tenuto per ultimo la chitarra delle Cagne Pelose la chitarra solista delle Cagne Pelose che fa stasera il suo rientro signori voglio un applauso veramente caloroso Reduce da una tournée americana signori alla chitarra solista ha suonato per voi Tony Bandana non ci tocca a te tu sei partito e mi volevi lasciar fuori fratellino ma pensa a te mi volevi lasciar fuori ma pensa a te ma cosa è questo? è un ammutinamento è ora di cambiare qua signori tocca a me e quindi io mi metto in posizione signori questa sera a Carpi avete la fortuna di rivederlo anche alle 22.30 l'incredibile l'inaffermabile l'insuperabile l'inconfondibile 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 Keith Williams rull Dad rull che ce quella basa piazie a rull 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 che tiene pauza poi Ro rull 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 che home Grazie a tutti. Grazie a tutti.